Gentili telespettatori, buona giornata. Vi racconto la presa in giro del cuneo fiscale per alzare gli stipendi. Si è parlato dei salari minimi, che il salario minimo che cos'è? È uno stipendio minimo sotto il quale nessuno può essere assunto in Italia. Saremmo gli unici al mondo. Ma no, il salario minimo c'è in molti paesi e in molti paesi europei e soprattutto nella prima economia europea. La Germania, che è una PIL, una produzione di ricchezza doppia dell'Italia, ha un salario minimo che prima era 9 euro, poi è stato alzato a 10 euro dal primo di luglio. Sarà a 12 euro all'ora, salario minimo. E la Germania non è fallita, gli imprenditori non sono falliti, anzi è la prima economia tedesca. Quindi la prima storiella che si racconta col salario minimo gli imprenditori falliscono è una balla. Punto primo. Alcuni partiti, storicamente si dice che gli imprenditori votano a destra, votino a destra, operaio impiegato a sinistra. Poi non è più così. Non è più così, assolutamente. Non è più così, assolutamente. È molto trasversale. Non c'è più l'operaio che vota Letta e l'imprenditore che vota Berlusconi. Può essere, ma non è detto. Alcuni partiti, visto di centrodestra, almeno tutti i partiti di centrodestra, da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, non vogliono perdere alle prossime elezioni il voto degli imprenditori. E allora dicono no al salario minimo. Salario minimo è civiltà. Il salario minimo cuneo fiscale. E allora molti pappagalli hanno ripetuto e ripetono da settimane no salario minimo cuneo fiscale. Cuneo fiscale. Cuneo fiscale vuol dire al posto che alzarti lo stipendio per legge minimo io diminuisco le tasse così l'effetto è lo stesso. Interessante vero? Meno tasse così quei 1500 euro lordi ce li hai ugualmente. Quel netto ce l'hai ugualmente. Non obbligo l'imprenditore per legge a pagarti un minimo decente per il tuo mese di lavoro, ma abbasso le tasse. Perché l'ipotesi cuneo fiscale è una fesseria? Adesso c'è un'ipotesi che ve lo svela. L'ipotesi dei salari più alti per 4 mesi. 70 euro in più al mese. Ma davvero? E tutto qua quello che si può fare con il cuneo fiscale? Il governo sta pensando che per combattere l'inflazione agli italiani per 4 mesi, per solo 4 mesi, abbassiamo le tasse sul lavoro in modo tale che abbiano 70 euro in più al mese. 7, 14, 21 euro. 280 euro per 4 mesi. E' tutto qui cuneo fiscale? E' questo il cuneo fiscale? Ma per far salire gli stipendi? minimo a 1.100, 1.200 euro netti al mese, che già non è sufficiente. In Germania il netto mensile è minimo 1.500. Allora, per far salire gli stipendi bisognerebbe quasi cancellare le tasse sul lavoro. se voi quasi cancellate le tasse sul lavoro, niente IRPEF, niente, allora lo stipendio minimo si aggirerebbe intorno a quello del salario minimo. Ma l'Italia non può azzerare le tasse sul lavoro. Ci vive, ci paga i debiti, ci paga i debiti. E allora lo Stato che cosa può fare? Per combattere l'inflazione fa una tantum solo per quattro mesi e abbassa le tasse in modo che voi abbiate 70 euro in più in busta paga. Solo per quattro mesi. Ed è così che si alza lo stipendio agli italiani? Che lo si rende almeno degno lo stipendio base? E' così? E' questo il cuneo fiscale che ci raccontano nel centrodestra? Beh, centrodestra è decisamente deludente. Se questo è il livello, ci sono le lezioni, non voglio perdere il voto degli imprenditori, allora dico no al salario minimo, cuneo fiscale, sapendo che le tasse sul lavoro si possono abbassare così simbolicamente o solo per quattro mesi. E' una bella presa in giro a milioni e milioni di italiani che votano centrodestra. E' una bella presa in giro. Una bella presa in giro. Perché a sinistra sono per il salario minimo? Perché a sinistra pensano che gli imprenditori votino solo a destra. Quindi non hanno problemi ad esporsi perché dicono tanto gli imprenditori votano di là. Il problema ce l'hanno loro. Noi parlando di salario minimo noi abbiamo solo impiegati e operai. Che non è vero, che non è vero. Ci sono tanti imprenditori che votano a sinistra, ma tanti, ma tanti. Sono le solite cose di incasellamento ideologico. E così vi ho svelato la buffonata del cuneo fiscale, l'ipotesi salari più alti per quattro mesi per combattere l'inflazione. Ma anche se fosse per sempre questi 70 euro in più al mese, secondo voi permetterebbero una vita degna alle famiglie? A gente che non riesce a dar da mangiare ai figli? Ieri c'era... adesso questo ve lo racconto nel prossimo video, perché è un po' lunghetto. L'imprenditore da giletti che si pavoneggiava, io ho cominciato dal niente, da un ristorante piccolo, ho fatto grandi cose, io, io, io. Io li conosco questi imprenditori, ci ho lavorato, i miei amici erano tutti imprenditori. Conosco la mentalità, io sono, io sono riuscito, perché non lo fai anche tu? Prendi esempio da me. E se non vuoi metterti in gioco, beccati 700 euro al mese, sono cacchi tuoi. Io sono un imprenditore, tu sei un sottoposto perché non hai quel qualcosa che ho io. Questo è un classico dell'imprenditore medio. Il sentirsi superiore agli altri, ai dipendenti, che non hanno quel qualcosa e rimarranno sempre dipendenti e quindi non devono neanche lamentarsi. Se tu non hai quel qualcosa, ve lo racconto nel prossimo video, perché è interessante, è interessante. Cuneo fiscale, ricordatevelo, è come dei pappagalli, adesso scrivete sotto. No, no, cuneo fiscale. È una presa in giro, l'avete capito, sì o no? Lo avete capito, sì o no? O continuate a fare i tifosi? Aprite la vostra mente. Poi continuate a votare centrodestra, perché l'alternativa non c'è, ma aprite gli occhi. Arrivederci a tutti e grazie.